Un altro giorno di disservizi per i cittadini di Potenza. Bus fermi e scale mobili chiuse per lo sciopero dei lavoratori del Cotrab. Intanto per oggi pomeriggio è stata comunicata all'assessore alla mobilità Bellettieri la disponibilità del prefetto ad incontrare le parti in merito alla vicenda che riguarda il trasporto pubblico locale potentino. Negli uffici di piazza Mario Pagano parteciperanno alla riunione il sindaco Dario De Luca, l'assessore Bellettieri, l'azienda Cotrab e i sindacati. Bellettieri intanto ha sottolineato come sia volontà di questa amministrazione quella di trovare una soluzione che in primis non penalizzi ulteriormente i cittadini e che tenga nella dovuta considerazione le richieste dei lavoratori. Bellettieri ribadisce inoltre che il Comune ha trasferito negli ultimi due mesi circa 1.800.000 euro all'azienda dimostrando attraverso azioni concrete di avere ben presente le difficoltà che riguardano il settore e le persone che in esso lavorano. I dipendenti Cotrab però dicono di aver sopportato già per troppo tempo il ritardo delle mensilità. Dopo un anno e mezzo circa che non percepiamo stipendi regolarmente adesso siamo arrivati a 4, diciamo uno ce l'hanno pagato quindi siamo arrivati a 3 abbiamo veramente superato ogni limite. Noi non siamo a conoscenza di tutte le cose che sono state fatte effettivamente però sicuramente c'è un dato di fatto che ad oggi noi avanziamo 3 mensilità e lui dice di aver dato dei soldi all'azienda, noi non sappiamo se effettivamente sono stati dati ma a quanto pare non è così, quindi lui deve fare chiarezza su tutto. L'azienda da parte sua ci dice che ci darà gli stipendi non appena il Comune gli darà quello che gli spetta. Chiediamo scuse ai cittadini perché alla fine creiamo un disagio però loro dovrebbero comprendere la nostra situazione anzi noi chiediamo ad alta voce se magari ci vengono a dare un sostegno. Noi chiediamo una presa di posizione da parte dell'amministrazione nei confronti dell'assessore ai trasporti perché ad oggi dopo circa un anno che è stato messo in carica non ha fatto altro che danni nei nostri confronti.